Zuck, è meglio che tu ti sieda. Rischi di cadere così vicino al bordo. Hai fame? Non avrai mangiato niente. Grazie, no, non ho fame. Qualcosa dovrai metterla nello stomaco, per la glicemia. Non ha fame. Fai uno sforzetto. Vuoi una mela? Ehi. Ho anche gli M&M's. Che vuoi? Non farlo. Non farlo cosa? Ti va se continuiamo ad allenarci? Essere su una zattera non cambia niente. E se lavoriamo sulla respirazione, farà bene a tutto il tuo organismo. Inspira profondamente. Inspira. Perfetto, ora metti la testa sott'acqua. Ti cronometro. Cosa? Non può farlo, sei impazzito. Certo che può, anzi, ti comunico che l'hai già fatto, quindi puoi rifarlo senza problemi. Bravo. Gli stai dando del ritardato. Aspetta, non ho mai usato quella parola nella mia vita, è chiaro? Le persone che lo chiamano ritardato intendono che non può fare quello che loro fanno, capisci? Puoi anche non usare la parola ritardato, ma lo fai sentire come se glielo dicessi. E questo non lo aiuta. Ehi, bentornato. Quasi un record. Quanto ho fatto. Tanto. Ma non abbastanza, riprova. Ok. Tu hai un bel coraggio a parlare così a una che non conosci. Ti descrivo il mio lavoro? Ho passato gli ultimi due anni facendo la volontaria, tenendo ogni giorno la mano alle persone mentre morivano. Ho ascoltato, consigliato, imboccato, pulito culi, cambiato canottiere e messo a letto. Io sono l'ultima faccia che hanno visto. Non sai un cazzo di me, quindi è meglio se taci. Concordo. E ti dico un'altra cosa. So che una casa di riposo non è il luogo più adatto, ma non è una scelta mia. Lo hanno buttato lì e io faccio comunque del mio meglio. Oh, porca vacca! Piano! Che orrore! Sei un grande! Bravo, Zach, lo hai preso a mani nude! Questo uomo è un mito! Se non altro con lui non moriremo di fame. Grazie, signore! Come è nato il piano americano? Fu introdotto la prima volta nel genere western per la necessità di avere un'inquadratura dalle ginocchia in su, ovviamente per mettere in campo le fondine delle pistole, corredo d'abbigliamento fondamentale in questo genere. Lo sapevate? Grazie per essere stati con noi, ragazzi. Se non siete ancora iscritti, non dovete fare altro che cliccare qui sotto e attivare la campanellina per le notifiche. Ciao da Valeria.